Ben ritrovati amici e amiche sportivi. Ben ritrovati amici e amici. 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 Ben ritrovati amici. Ben ritrovati amici. Ben ritrovati amici e amici. 1557 e Silvi Turcato, Libertas Piombino Dese, 40 minuti e 24. Sono stati 239 i classificati. Arezzo ha ospitato quest'anno i campionati italiani master. Sono 25 i titoli che ha conquistato il Friuli Venezia Giulia, 15 negli uomini e 10 nelle donne. Per i motivi di tempo citiamo solo i campioni italiani, ma a salire sul podio sono stati veramente in tanti, a dimostrazione che anche questo settore è in buona salute. In campo maschile sono state due le doppiette a opera di Fabio Gasparotto M45 della Edilmarket Sandring negli 800 e 1500 e Aldo Sandring M75 anche lui della Edilmarket Sandring nei 100 e nei 200. Molti nomi illustri come Ruggero Dascanio M35 dell'Atletica Bruniera nei 5000 marcia, Francesco Nadalutti M40 della Sportiamo Trieste nei 1500, Ivano Nicoletti M40 della Master Trieste nei 100, Lucio Bujatti M60 della Master Trieste nel Giavellotto e Daniele Caporale M50 del Meliani Libertas nell'asta. Ma torniamo a casa con loro al collo anche con atleti meno noti come Guerrino Battistella M65 della Sandring Bruniera negli 800, Roberto Roberti M60 della Master Trieste nei 400, Loris Bragagnolo M45 dell'Atletica 2000 Codroipo nel triplo e il senatore Francesco Fella M85 dell'Atletica Gorizia nel Giavellotto. Da non trascurare poi la 4x4 M60 dell'Edilmarket Sandring, De Marchi, Battistella, Breda e Polesello. La 4x4 M55 della Master Trieste, Roberti, Ruzier, Proch e Marco. Tra le donne la superstar è stata Nives Pozzer, triestina della nuova atletica Friuli che a 90 anni vince tutti i lanci, martellone compreso e sale 5 volte sul gradino più alto del podio. Vittorie anche per la F50 Elena Cinca Bruniera Friuli in Tagli nei 5000 marcia, Stefania Rustici Master Trieste nel martello e ancora Fioretta Nadali F60 del Bruniera Friuli in Tagli nei 300 ostacoli, Maria Cristina Fra Giacomo F80 nell'Atletica Aviano nei 5000 e la San Marinese F55 del GS Natisone Cividale, Paola Carinato nell'Eptathlon. E come già brevemente comunicato la scorsa settimana, alla tisana si è tenuta la prima edizione della Timentran, corsa su strada nazionale sulla distanza di 10 km. Tra le difficoltà legate al Covid-19 e i timori per le condizioni atmosferiche, le ore della vigilia erano corse non senza tensione, ma alla fine l'esordio è andato nel migliore dei modi. Alla tisana si è corso, dividendo i concorrenti in piccoli gruppi, un'accortezza necessaria che non ha tolto nulla alla passione e allo spettacolo dell'evento. Tantissimi volontari appostati lungo il percorso e nella gestione della delicata fase di partenza e arrivo, in particolare dell'Associazione Consulta dello Sport di Latisana e Ronchis. Oltre a loro un lavoro egregio hanno svolto le sezioni locali della protezione civile e le società coinvolte, oltre all'Associazione Carabinieri in pensione. La vittoria è andata al favorito della vigilia, Luca Parisi, Axi Campidoglio Palatino, che ha chiuso in 32-18, secondo Andrea Rinaldi, Fondazione Bentegodi a 20 secondi, terzo Omar Zampi, Sassindustria Padova a 29 secondi, doppietta della KM Sport fra le donne con Marta Fabris, prima in 38-43 e Chiara Pianeta, seconda in 40-6, terzo gradino del podio per Cristina Ballabio, Runners Desio in 40-17. È stata una giornataccia, ha detto il presidente Salvatore Vazzana, ma tutti abbiamo lavorato per portare a termine questa prima gara nazionale e malgrado il maltempo ci siamo riusciti. Un plauso lo dobbiamo fare a volontari, alle amministrazioni comunali di Latisana e Ronchis e agli atleti, molti dei quali provenienti da diverse regioni italiane. E stasera andiamo a conoscere Simone Biasutti, i momenti salienti della sua giovane carriera di saltatore. Ha compiuto 21 anni il primo ottobre, ma è già una bella realtà nel panorama atletico italiano. Questo ragazzo triestino, dalla faccia pulita e dalle grandi potenzialità, se la cava a meraviglia nei salti, siano essi in estensione che in elevazione. La sua storia comincia nel 2007. Ha otto anni e parte dalla categoria esordienti. Primo tesseramento nel Marathon, una vera e propria istituzione atletica a Trieste. E lì rimane per sette anni per passare, nel 2014, secondo hanno cadetti, alla Trieste atletica. Vince tanto il giovane talento. Titoli su titoli regionali e qualche rappresentativa gli consentono di accumulare esperienze importanti, ma anche di prendere consapevolezza che nell'atletica leggera può dire la sua. La scalata ai vertici delle classifiche e delle graduatorie nazionali inizia a prendere forma e così nel mese di luglio del 2016, categoria allievi, debutta in Nazionale a Tbilisi, in Georgia, dove è schierato dai tecnici azzurri nella gara di salto triplo. Con 14 metri e 8 si ferma all'undicesimo posto, ma è la tassa che si deve pagare all'emozione della prima volta. Ai mondiali under 20 di Tampere, 2018, in Finlandia, eguaglia nelle qualificazioni il suo primato regionale junior di triplo, con 15 metri e 70. Poi in finale gli manca il feeling con la pedana. Nullo, nullo e poi un 15 e 16 che non è sufficiente per proseguire la gara. È stata un'esperienza unica, ci dirà il saltatore triestino, però cercavo i 16 metri. Si classifica a dodicesimo, ma il viaggio verso l'ignoto, alla ricerca di quote sempre più elevate, continua. Il secondo posto agli italiani indoor di Ancona nel febbraio 2019, ma soprattutto la misura di 15,91 di triplo, primato regionale assoluto indoor, lo rassicura. Lo storico 16 metri e 2 all'aperto del tarvisiano Maurizio Siega, realizzato nel lontanissimo 1975, comincia a traballare. Parte alla grande è anche la stagione all'aperto di quell'anno. A inizio aprile, nella sua Trieste, partecipa al trofeo 5 cerchi. Seguito come un'ombra da Claudio Loganes, ogni tanto si concede al suo primo amore il salto in alto. Supera abbondantemente i 2,6 metri, poi manca veramente di un niente i 2,10 metri. In prospettiva sembra davvero l'annata buona. A giugno ci sono gli italiani a rieti e si torna al triplo per realizzare quel sogno cullato da tempo. Con il secondo posto arriva anche quel record regionale vecchio di 44 anni. Simone mette a posto le cose e plana a 16,31 metri, 29 centimetri oltre Siega, 75. Il triplo è disciplina estremamente tecnica e complicata e si sviluppa in tre fasi. Hop, step e jump. Biasutti le interpreta bene, ma si può sempre migliorare. E lui lo sa. A Gavle in Svezia il 13 luglio 2019, di nuovo in azzurro. Sende in pedano nel triplo per i campionati europei Under 23. Decimo in qualifica con 15,36 metri, lontano dal fresco personale e niente finale. Incidente di percorso, si va avanti con fiducia. Sabato 1 agosto 2020 è un altro di quei momenti da ricordare. Il caloroso tifo del pubblico di casa dello Stadio Grezzar lo esalta. Nella gara di salto triplo del tredicesimo Trivenetro Meeting, vinta dallo spagnolo Pablo Torres, 16,86 metri, sul terzo gradino del podio sale l'allievo di Claudio Loganes, autore di una solidissima serie e di un sensazionale balzo a 16,40, con il quale ritocca la miglior misura all-time regionale che già gli apparteneva. Sono molto soddisfatto di rabbiazzuti al termine della gara. Avevo delle sensazioni fantastiche e nonostante nei primi tre salti non abbia eseguito una rincorsa corretta, sono arrivato a buone misure. Successivamente sono riuscito a tenere alta la tensione e all'ultimo tentativo è venuta fuori una misura che mi ha dato la conferma di come agli assoluti di fine mese potrò dire la mia. Arriva ai campionati italiani assoluti di Padova domenica 30 agosto determinato e consapevole dei suoi mezzi. Conquista infatti il bronzo con il secondo balzo ancora oltre il muro dei 16 metri, 16,09, e si conferma atleta dal promettente futuro. Dopo aver piazzato un 16,6 alla terza prova è vittima di crampi e preferisce non rischiare, visto che della Valle e Bocchi i primi due sono piuttosto lontani. Teniamo presente che Biasutti appartiene ancora alla categoria promesse. Arriviamo così a Grosseto, campionati italiani junior e promesse. Il successo sorride ancora ad Andrea Dallavalle, fiamme gialle, con 16,72 metri. Biasutti ed Argento con 16,38, misura avvalicata al quinto salto, solo due centimetri in meno del recente personale. Non effettua l'ultima prova. Evidentemente l'argento era obiettivo più che soddisfacente, naturalmente per ora. E questa era l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per il fedele cortese a strvolto e arrivederci alla prossima settimana. Grazie per la visione!